Allora, abbiamo davvero un piacere quest'oggi di intervistare il neoconsigliere comunale Raffaele Yelpo. Noi dobbiamo fare una premessa importantissima perché dobbiamo innanzitutto chiedere scusa al nuovo consigliere comunale di Lauria perché gli abbiamo dedicato una copertina, però abbiamo poi fatto un errore macroscopico enorme, cioè confondendo il suo cognome. Chiediamo scusa, però approfittiamo anche dell'occasione per evidenziare ai nostri lettori com'è difficile ogni volta che esce il giornale limitare al minimo gli errori perché sappiamo che certamente ce ne saranno. Certo, in prima pagina, nei titoli, nei sottotitoli sono un po' gli errori che ci fanno stare più male. Non c'è problema, lo sai perché come dicevo nella campagna elettorale, questo è il virus pittaliano che ci ha accompagnato tutta la campagna elettorale. Ogni volta che succedeva qualcosa era sempre quel virus pittaliano che ci metteva i bassi andrò. Quindi no, so che non l'avete fatto sicuramente, con Mario ci conosciamo da tanti anni, quindi scappare il cognome può capitare. Quindi perciò ti dico che il virus pittaliano potrebbe avere perché non a caso di lascio, di lascio a cui che Pitella tiene di più, soprattutto Marcello. Domenico di lascio di Seluci e di lascio di Galdo. Biagina attacca, come diciamo tutti qua. Perciò non a caso questo virus ha inciso per fare pubblicità a loro. Allora, avrete già capito che sarà un'intervista bella e effervescente. Spesso il nostro giornale viene accusato di essere un po' di fare informazione paludata. In questa occasione certamente ci saranno mille spunti. Raffaella, partiamo dall'inizio. Nel partire dall'inizio con te si deve andare davvero molto indietro con gli anni perché magari molti ti hanno conosciuto adesso, anche per un aspetto che poi parleremo, che ti ha reso davvero molto famoso. Però chi ti conosceva da tempo sapeva che già da ragazzino seguivi un po' le attività politiche. Tra l'altro tu nel tuo telefonino fai vedere anche un po' di foto in cui si vedono i personaggi politici importanti, i personaggi politici attuali che molto giovani, cioè tu eri veramente piccolino e stavi intorno a loro. Allora Raffaele, partiamo da qui, da questa passione per la politica laureota e non solo, perché comunque nel tuo territorio venivano personaggi anche nazionali, regionali e ovviamente anche locali. Certo, io l'ho vissuta da piccolo. Come dico in vari comizi, ho detto, sono nato nella politica, davvero. A casa mia sono stati Gianni Pittella la prima volta quando è stato candidato alla regione Basilicata, Gianni, sono del senatore Pittella all'epoca, quindi parto molto da lontana, anche perché come dico dal video, io sono uno dei gemelli che è nato nella clinica di Don Mimì Pittella. E quindi io veramente sono nato nella politica e quindi mi ho vissuto parecchie zone vicende di politica male, diciamo così, che è proprio lì, secondo me è nata la mala politica che ha abbracciato Lauria, perché dall'epoca che il senatore ha dato le redini un po' dappertutti, perché noi non ci dobbiamo scordare, abbiamo avuto questi poteri pisaniani, Pittella, insieme, che veramente dovevano essere il futuro nostro. E io come giovane credevo che queste persone potevano arrivare a far crescere la mia gioventù, la mia, come dire, il mio progresso giovanile. E poi mi sono reso conto che nel passaggio di questa politica bruttissima ogni anno, ogni anno ho visto che hanno fatto sempre questa politica del clientelismo, ma il popolo è venuto tenuto in ombra. Però anche il popolo non ha avuto l'interesse di interessarsi se queste persone erano giuste, che li portavano verso un progresso per i figli. Hanno pensato sempre, perché Lauria è un po' così, ha pensato sempre un po' all'orticello suo. Beste che stavo buono io e gli altri me ne vengono. Invece non dobbiamo dare queste immagini, perché se diamo queste immagini allontaniamo la politica dai giovani soprattutto. Ma anche io me la prendo con gente del 50, perché loro dovevano essere il motore per noi giovani. E questo non l'è stato, perché loro dovevano insegnare a noi che non dovevamo, come dico io, leccare con la politica, perché sono state queste persone qua che ci hanno influito nella nostra emenda a dire che ma se queste lecche con un politico di turno, che te ne frega, tanto va a fare come tu, te ne fotte degli altri. Invece no, io non sono stato mai così, perché ora ho 40 anni. Immaginate che io tremavo da dietro a vedere, ma è possibile che non si può risolvere i problemi di Lauria, come un paese Lauria che è trascinatore di tutti gli altri paesi, perché copiando Lauria anche i piccoli paesi si riuscivano a trascinare ed a immarginare, perché così non abbiamo fatto altro che, io lo dico sempre, alla fine di questa pensione, che Lauria sarà un mortore, perché non hanno creato, chi non semina non raccoglie, loro non hanno raccolto niente. Raffaele, benissimo, già una prima riflessione anche piena di contenuti, anche di riflessioni. Raffaele, però ritorniamo a quando eri ragazzino, ecco un episodio, non dire quello lì famoso, dinne altri che poi ci arriveremo all'episodio famoso, al quale hai partecipato, perché tu hai citato già dei politici, io ho visto una tua foto nel telefonino, c'era Pisani, c'era Pittella, Gaetano Mitidieri, Domenico Cirigliano, Caimo, insomma. C'erano parecce, no, Caimo non c'era, non c'era che faceva parte dell'altra corrente dei democristiani, ma io ricordo male, Raffaele, c'è stato un momento in cui, no, non è che c'era una collaborazione, però diciamo c'era un dialogo con Nicola Caimo, parlo di 20 anni fa, o mi sbaglio? No, no, con mio vero non c'è stato quel dialogo, perché quando era con i socialisti, loro erano contro, quindi erano i democratici, erano noi i democratici. Tu con Nicola Caimo c'è stato? No, ero troppo piccolo, diciamo che io poi ero influito da quella corrente del Partito Socialista, il Garofalo, quindi avevo le idee loro, che mi volevano immettere quelle idee loro, che io davo un'occhiatina, insomma, guardavo uno e l'altro, insomma, per vedere qual era il giusto e qual era il positivo. Quindi possiamo dire che tu sei nato socialista? Sì, sono nato socialista perché sono nato là, però diciamo che, visto la vicenda, dopo mi sono allontanato, dopo già da 18-19 anni, quando ho cresciuto, veramente dopo quando ho visto che il mio mito era Don Mimì Pittella, poi quando ho visto questo mito che man mano andava cadendo, perché i figli poi non hanno tenuto a testo, come magari forse il senatore voleva in giro a tutti noi, magari Lauria, voleva che dovessero... Io mi ricordo una volta quando abbiamo fatto un episodio, abbiamo fatto una riunione di tutti gli imprenditori edili, a casa mia dove c'erano Pisani, c'era Marcello all'epoca che si era prima insediato, dopo la palla a volo, che iniziava a fare riunioni... Lui era assessore comunale alle attività produttive, forse stai parlando del 1994... Sì, 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 più o meno là, dovevamo fare qualcosa per i giovani al lato riguardo dei campi sportivi, io gli chiesi, ma come mai Marcello non fate sviluppare il campo sportivo a Lauria Superiore, non fate, io vedo altri posti dove noi andiamo a giocare, perché tra l'altro mio padre mi vietava pure di andare a giocare, perché lui era convinto che il pallone non portasse come la maggior parte tra i campagnoli di Lauria, sono ancora convinti, appunto perciò adesso vogliamo fare questa riunione domani sera che si terrà per chi gioca nella villa, col pallone, chissà, dobbiamo vedere veramente se questi genitori vietano ai figli di giocare al pallone e poi l'unico mezzo vengono in villa a sfogarsi, magari tirano pallonati, perché io non vedo che se mettiamo una scuola a calcio, Lauria, anche finanziata dal comune, dai soldi, perché le famiglie non possono pagare le scuole a calcio, quindi non possono mantenere i figli ad andare a scuola a calcio, e quindi ce li ritroviamo a casa con i computer, giocando tutto il giorno, perché tanto le donne magari, sì, vabbè, gioca a computer, ce lo togliamo davanti, e magari sta là buono, però non è buono perché non socializza, prende brutte strade come i giochi, dalle macchinette, di tutti, allora si fissa, e quindi non creiamo più una struttura dei nostri giochi, io questo voglio dire, allora dobbiamo fare questo problema, non è che, perché un giovane che gioca due ore, non va in villa con la madre a giocare di nuovo a pallone, perché io mi ricordo io, dopo due ore, era passata quella voglia, magari si ha quella voglia di stare con l'anziano, di sentire i fattirelli di prima, allora io già dall'epoca, quando ero piccolo così, glielo dicevo che fecero questa luna, e Marcello voleva fare, disse sì, ma ci arriveremo anche a questo, erano tutti gli artigiani di Lauria, per formare un qualcosa dicevano tutti questi artigiani, dicevano, ma non ha voglia nessun giovane di imbararsi il muratore, ma come dobbiamo fare, c'erano i fabbri, c'erano tanti artigiani, di cui io mi alzo così, da piccolo, già avevo le idee, già avevo le idee già lontane, insomma, c'è un termine che ora non ricordo, che si dice lì, lì, vabbè non lo dico, Lungimirante, che io guardavo molto oltre, e già gli dicevo, che se noi, voi vi lamentate voi artigiani, perché io poi andavo pure con mio padre a lavorare d'estate, da muratore, vedevo che prendevo le cardarelle di calce, e quindi era un lavoro pesante, quindi io facilmente abbandonavo, se volevo imparare il mestiere da muratore, io dovevo fare l'oro, la mentalità dei muratori, che all'epoca era così, vedi come erano sciocchi, veramente, erano stupidi, dovevo fare due o tre anni, il culo così, a portare delle cardarelle, ma faccio un esempio banale, voglio fare un esempio banale per mettere delle mattonelle, delle mattonelle che uno mette, se tu non gliela fai vedere, quello non la metterà, neanche che fai il manuale fra venti anni, e che era questa cosa, allora noi organizziamo, disse io, e i muratori, i fabbri che c'erano là, organizziamo delle scuole finanziate dalla regione, Basilicata dove voi stesso muratore, a turno, fate delle ore, il piastellista, il muratore, delle pietre, che magari, oppure così, anche per il fabbro, che si metteva alla scuola del fabbro, allora tu ti ritrovi un giovane, dopo un anno e mezzo, finanziato dalla regione, come tipo dell'Apofil, che poi non è servita a niente, quando sto analizzando io, queste corse erano state inventate così, ma non vedo questa cosa, quindi... Quindi diciamo c'è stato questo incontro, e quindi anche un po' queste idee, che già all'epoca, ma eri ragazzino davvero, insomma, Davide, tra l'altro tu hai parlato, per chi non ti conosce, possiamo dire, tu sei un artigiano, quindi questo è il tuo, diciamo, lavoro principale. Poi sappiamo anche, noi ci siamo conosciuti con Raffaele perché facemmo un'esperienza, che per noi appariva, per me personalmente appariva qualcosa di fantascientifico, poi però mi sono andato a studiare, e ho capito, insomma, che tu esercitavi, non lo so se lo fai ancora, esercitavi una particolarità, diciamo, hai una competenza molto particolare, la vogliamo così abbozzare velocemente. Sì, sono un rabdomando, chi non sa il termine, sono quelle persone che con un ramuscello di salge riescono a individuare l'acqua sotto i terreni, e quindi è quella dote, però questa è una dote naturale, perché chiunque riesce, però io quante persone ho fatto provare non riesce, perché forse si ha il sesto senso, quella è una forza che dà, e quindi io ho scoperto che avevo 11 anni, questo dono di natura. Raffaele, non so se ricordi, noi in piazza San Giacomo mettiamo un secchio sotto il palco, ti ricordi? Abbiamo messo dei secchi, i voti, coperti, dei secchi, e dove io con il ramuscello dovevo individuare dove c'era l'acqua, dove l'acqua. Lì era abbastanza difficile perché dove non scorre l'acqua, dove non scorre l'acqua, non dà quelle, tipo, perché non è niente di scientifico, però mentre l'acqua si muove emana come delle onde magnetiche, tipo onde magnetiche, che noi non facciamo altro che chiudere quel circuito attraverso il salice, e ti dà quella potenza. Lì in quel caso l'acqua era ferma, quindi ho dovuto fare uno sforzo più difficile. Raffaele, io ti sto alzando la palla perché un tuo cavallo di battaglia, sia della campagna elettorale, ci arriveremo, perché poi dobbiamo capire come hai deciso, insomma, di far parte di una delle tre liste che si sono presentate a Lauria. Però prima di parlare di questo, ti voglio alzare la palla sul tema dell'acqua, perché tu hai delle idee molto precise sulla gestione dell'acqua, tu sei contrario ad Acquedotto Lucano, ecco, in tre minuti, insomma, dici il tuo pensiero su questo. Io non ero d'accordo, perché come ha fatto Giovanni Paldolfi all'epoca, un paesino di 3500, come Rotonda, non si è fatta fregare l'acqua perché è produttore rotonda, come lo siamo noi, Sirino, e non ci possiamo dimenticare che all'epoca ce l'abbiamo fatta fregare quando c'era Marcello Pittella era sindaco e l'ha venduta all'Acquedotto Lucano, come ha venduto qua a Lauria, i Picciolo Bull, e quindi noi non ci possiamo dimenticare questa amministrazione che ci ha fatto fregare l'acqua, che tra l'altro hanno messo i condatori, noi produttori, perché l'acqua non è una materia prima che la produciamo noi, che abbiamo dei costi, l'acqua esce dalla natura, la dovevamo solo gestire, perché l'acqua doveva essere pubblica a tutti, i fondanini dovrebbero essere controllati per il bene, la sanezza pubblica di tutti, perché comunque non si sa mai, perché l'inguinamento c'è dappertutto, la gente incivile, stiamo facendo delle campagne, anche a livello con i 5 Stelle, ma la gente ancora vedo che ha gli occhi bendati, allora chi è meglio di noi, che produciamo l'acqua, la dobbiamo pagare a peso d'oro, e questo a me fa incazzare molto, molto perché noi, e poi non so, ma adesso devo andare a guardare le carte, devo vedere che vincolo hanno dato, perché sicuramente hanno dato un vincolo di 99 anni, come fanno, io faccio sempre l'esempio, come fanno per le cellette del cimitero, qui a Superiore, quindi noi non ci possiamo svingolare, allora queste persone che abbiamo mandato lì, che crederanno che erano per il futuro nostro, e loro hanno precipitato questo paese, non è possibile, io ci sto molto addolorato. Raffaele, continueremo a parlare di tematiche concrete, perché l'acqua è sicuramente un problema enorme, un problema importante, allora abbiamo detto la tua passione per la politica fin da piccolo, questa passione per il senatore Pittella, diciamo così, poi pian piano è scemata, sei partito socialista, però alla fine un po' il socialismo ti ha deluso, ci è parso di capire, nel frattempo sono passati gli anni, uno cresce, ragiona, riflette, e poi arriviamo un po' più ai giorni nostri, tu mi pare di capire, cominci a vedere una laurea che non ti soddisfa, perché come tu hai detto, insomma, una laurea dove è troppo legata alla politica, poche attività, insomma, poco dinamismo, ma ci ritorneremo su questa questione. arriviamo appunto, penso, adesso ci correggerai, probabilmente intorno a dicembre-gennaio, e cominciano ad esserci un po' di fermento a laurea, perché insomma ci sono le elezioni, tu vieni contattato da qualcuno, ti proponi tu, ecco, come nasce la tua candidatura alle ultime elezioni comunali, e perché scegli Mariano Labanca come tuo capolista? Lo scelgo Mariano Labanca, perché è stato cinque anni all'opposizione, l'ho seguito, e quindi a me faceva rabbia vederlo solo, e senza poter fare nulla, perché seguindolo alle spalte, e poi ero amareggiato, deluso da Angelo Lamboglia, perché io mi ero battuto per lui, credevo in quella persona, e quando dopo sette mesi mi sono accorto che lui non faceva altro che forse andarsi a prendere quella poltrona che adesso ci è riuscito, ma non deve dire grazie alla sua personalità, quella non è farina del suo sacco, la farina del suo sacco è quella che ho costruito io adesso, 659 voti, pur poco, con la maggioranza, ma dico io, quello è il potere che me lo so creato io, allora tu vai a fare il sindaco, con i voti tuoi, no, è troppo facile unire le forze di clientelismo, era troppo facile, io se volevo fare il successo, chiedevo a qualcuno della maggioranza, alle democratici, entravo nella lista, e a quest'ora sarei là, però non voglio dare queste immagini, perché sarei un godardo come gli altri, sarei lo stesso, io non me ne frega niente, io mi voglio mangiare pure pane e cipolla, però voglio dare un'immagine, forse l'ho creata, secondo me l'ho creata, a fare l'attenzione verso la politica, che ho visto troppi anni allontanarsi da giù, forse ho creato questa cosa, perché adesso mi contattano molti giovani, mi dicono, Raffaello vogliamo fare qualcosa con te, forse è giusto, allora da questo è importante, perché non ci fidiamo più di nessuno, non ci devi deludere anche tu, non devi fare la fine di Angelo, perché alcuni giovani che eravamo insieme pure con Angelo, non ci ha creduto nemmeno in me questa volta, non mi ha dato il voto, poi ha visto che si è trovato pendito. Quindi fammi capire, c'è stata una fase in cui tu eri in laurea libera, diciamo, affiancavi questa associazione, questo progetto politico. Sì, l'associazione che Angelo aveva determinato Peppino Imbastato, che aveva determinato Peppino Imbastato, che era colui che ha combattuto con la mafia, come sappiamo, allora perciò io pensavo, perché quando tu dai un nome di un'associazione, ti identifichi in quella persona, non cambi, io penso che se se non accorgerebbe Peppino Imbastato, si rivolterebbe sulla tomba immediatamente, non si fa così, perché non si deve dare queste immagini, perché poi vedevo Mariano, che cercava l'ultima età di gennaio, pure d'agosto, però io ero scocciato, ero scocciato perché già sapevo che l'auria è svogliata, non ha voglia di crescere, allora già sapevo, una volta venne contattata Mariano, più volte veramente, e allora pure da Mariano Picci, quando un anno e mezzo fa, prima della lezione verso, e allora glielo spiegai, che c'era pure Cosimo Latronico, che era venuto per far sì che dovevamo fare questo centro, destra, perché cui militava Mariano, che poi si è dissociato, e io mi ho preso la parola, dal libro cittadino, che eravamo in un anno e disse, a l'auria non si fa niente, e poi disse, caro Cosimo Latronico, lei deve dare le immagini, la tua destra, deve dare le immagini come i 5 Stelle, e cominciate a abbassare lo stipendio, fate vedere, allora possiamo creare un partito a l'auria, di destra, se no altrimenti non ci sarà niente, perché l'auria non cambia, non cambia nemmeno questa volta, perché c'è troppo clientelismo politico, troppo clientelismo, io vedo nei giovani laureati, che non ha voglia di cambiare, uno perché è disfatto dalla politica, due perché dice, vabbè tanto mi laureo, vado nello studio di coloro, che hanno il potere, presento il curriculum, vado a fare 6 ore, 5 ore a una parte, e si contentano così, camba cavalla l'erba cresce, ma non è così, non si fa così, e allora, e poi venne contattato, una domenica sera, c'erano alcuni elementi, non c'erano più osnati, perché era stata già, determinata cosa, ma poi io le ho dissi a Mariano, Mariano se intendi fare qualcosa, io non intendo militare, nella tua lista, se ci sono gente che ha fatto politica, per coloro che, per i poteri, gente nuova, io mi metto come te, quindi, già si trappalava il nome di Schettini Nicola, e allora io già gli disse a Mariano, non per nulla, che non ho niente contro Nicola, ma però lui, 5 anni fa, ha battuto, che ha portato Pietro Flores, e 5 anni prima, era lo stesso, con un'altra corrente, allora io, queste persone qua, non mi posso fidare, quindi, e ancora non mi fido, perché può darsi che, domani mattina, all'opposizione, faccio il gioco, dei democrazioni, perché questo, io non mi sono mai venduto, Osnato nemmeno, non si è venduto, diciamo, che ha fatto, sì, però non è fatto, e Mariano nemmeno, quindi, va bene, insomma, tu da domani ci darai molti grattacapi, con questa intervista, perché, poi ci chiameranno, e vorranno dire pure la loro, ma, questo è il sale della democrazia, poi, tu non stai, non stai offendendo nessuno, e quindi, devi, fai bene, fai bene, a dire, a chiamare Mariana, a dirgli, che se vogliamo fare qualcosa, ma non dovete, non come i comitati, Mariano la banca, Mariano la banca, Mariano la banca, perché già sapevo che il nostro traditore, Mariano Picci, quando gli ho detto, non ci dava la mano, perché, già Mariano contattava dei candidati, e passava, il dottor Picci andava a disfolgere, la persona andava a sconvincere, e gli ho detto, Mariano, noi la vogliamo fare, mancavano dieci giorni, raccogliamo le firme, la vogliamo fare per divertirci, e per far capire, io voglio quello che voglio far capire, alla gente la voglia, che non cambiamo, nonostante che io farò i comizi, alla Grillo Maniera, dirò la verità, ma Lauria non cambia, Mariano, e gli avevo detto anche questa cosa, Mariano, gli avevo detto che sotto i duemila voti, e tu un voto o meno, di Osnato, che Osnato, io non farò politica, nemmeno tu, farò politica, perché vuol dire che la gente, come cinque anni che hai fatto opposizione, loro dal nulla, e ritrovarci poi con gli stessi voti, vuol dire che Lauria, non attenda quello che ho detto, e se è trovato, perché tanto Lauria, non cambia, non vuole cambiare, quindi è nudo che sprechiamo il tempo, gli ho detto, proprio così, lo facciamo, io mi diverto, veramente a Mariano, lo chiamavano, quando io facevo i comizi, pure di destra, quelli di democratici, per fargli paura, a Mariano, dirgli che, si dice al gemello, che noi lo quereleamo, lo facciamo, poi il grande schifo, che ha trapelato, nelle campagne mie, dove venivano i carabinieri, a ogni comizio, perché, un po' perché venivano a sentire me, poi perché dovevano venire, tra la gente, tra quella gente, che io, col vecchio socialista, tra cui a me, loro mi hanno cresciuto, facevano trapelare, che nei comizi venivano ad arrestare il gemello, e questa era una cosa bruttissima, perché la gente a me, mi conosceva la laurea, ed era, e io, mi dico a quelle persone, che gli veniva detto queste cose, da coloro, perché questa era una voce, che facevano trapelare, i democratici, perché, figurate, nemmeno mio padre, mi ha votato, perché, ha la stessa mentalità, delle 3 mila persone, di laurea, per dirti, mio padre e mia mamma, quindi perciò, io già ero convinto, che non potevamo cambiare, non si cambia, solo alle pensioni, solo alla fine delle pensioni, si può cambiare, perché, e infatti il risultato, ha dato ragione. Aspetta, Raffaele, tu, correggimi, ma penso di dire il giusto, tu sei il più votato dell'opposizione, o mi sbaglio? Sì, sì, ma anche, sono il terzo, se andiamo, anzi il quarto, il terzo di tutti, perché, la donna, si sa che la porta l'uomo, per dire così, e quindi, è stata la Bruna Gagliardi, dopo, è venuto a casa mia, a casa di mio padre, con il don Mimì Pittella, ha girato le campagne, dopo che io ho fatto uscire il lupo dalla Tana, che ho detto, perché erano vent'anni che non usciva il don Mimì Pittella, visto che facevo comizia, è venuto, e non so cosa abbia detto a mio padre, ma per non convincere mio padre, a dire, perché io ho trapelato tra i pittelliani, gli ho detto, vedete che da questa storia, l'unico che sarà sconvinto, sarà mio padre, perché quando gli faranno gli auguri, o così, sarà sconvitto mio padre, perché a me non mi è bersagliato così, perché loro avevano fatto questa tattica, avevano predisposto. Raffaele, stai aggiungendo un aspetto davvero, che io non avevo proprio capito, diciamo, non avevo, diciamo, recepito, quindi davvero questa situazione anche, diciamo, all'interno della tua famiglia, ma questo dimostra anche, e io ti faccio i complimenti, perché bisogna avere anche forze, coraggio e determinazione, credere in quello che si sta facendo. Esatto. Raffaele, ma ci torniamo, perché abbiamo tempo, possiamo assolutamente dilungarci in questa intervista, che sono convinto verrà ascoltata da parecchie persone. E quindi abbiamo detto, accetti, metti anche, poni delle condizioni, mi pare di capire, la lista deve essere nuova, non di persone che hanno fatto già altre esperienze, e quindi ti candidi. Inizia la campagna elettorale. Però, prima della campagna elettorale, tu stai ripetendo più volte un po' il discorso di Beppe Grillo, 5 Stelle. Io ho la sensazione, però anche qui mi devi correggere, che, insomma, tu, in questo momento, se qualcuno ti dovesse dire, ma a livello nazionale, qual è la forza politica che si avvicina alle tue idee, io potrei dire 5 Stelle. No, 5 Stelle perché, io sono stato di 5 Stelle, già dal 2009 ho seguito Grillo, poi nel 2010 mi sono iscritto, dove invitavo, ad Angelo Lamboglia. Tu sei iscritto a 5 Stelle. 5 Stelle dal 2010, proprio, quindi sono uno dei primi, io e Biagino Picardi, l'amico che eravamo in laurea libera, di laurea superiore, che siamo coetanei, che lui anche militava in laurea libera, ha militato prima di me, e gli disse a Angelo Lamboglia, che tu devi direzionarci noi, siccome eravamo con Di Pietro, direzioniamo per 5 Stelle perché sta crescendo, anche in quella maniera avevo già le visioni lunghe io, perché se noi stiamo, alcuni stiamo con 5 Stelle, ora a questo momento, noi avevamo un deputato, perché quando si è presentato Pietro, di Inverio, ha preso 630, 640, quei 640 che potevano essere per i 5 Stelle, avevamo un deputato a laurea, a laurea, formavamo già 5 Stelle, e ora, alle comunali ora, potevamo avere 5 Stelle come è successo per Roma, invece il presuntoso di Angelo, sai come mi disse a me, ma io ho visto lo statuto, però non lo posso presentare io, e allora là, dall'epoca, ho capito che lui, tu sei un presuntoso, sei un protagonista, e gli disse, ma che cosa c'entra? Facciamo presentare agli altri, facciamo presentare agli altri, poi vediamo, quando verrà che le regole di 5 Stelle, tu non occuperai, perché sono due anni e mezzo, che devi stare fuori dall'istituzione, ti potrai ripresentare, ma ci sono altri, e intanto iniziamo a mettere, veramente in questo caso, una prima pietra, o un primo mattone, come dicevo, e allora adesso potevamo avere, sia un deputato, come Petruccelli, votavamo avere, 5 Stelle, un candidato alla regione, perché Lauria aveva la potenzialità, perché tutti i giovani si iscrivivano al blog di Beppe Grillo, e votavano via internet, perché così funziona, e magari facevamo scrivere qualche anziano pure tra di noi, o votavamo noi, e andavamo a casa magari, se proprio proprio volevamo raggiungere, perché a Lauria dobbiamo capire che, con il computer, guarda, siamo il 70% che ce ne fottiamo, ce ne freghiamo tutti, quindi pure io mi sono attrezzato, io devo dire la verità, non sono stato nemmeno, un grosso amante di computer, telefonese, però non è che vada, però mi sono attrezzato già da 4-5 anni, ho pensato, ho visto che senza il computer non sei nessuno, e quindi mi sono dovuto ricredere adeguare, perché così, non è che devo controllare. Raffaele, fatti fare una domanda proprio a Bruciapelo, ma tu, il successo che hai avuto, ti potrebbe facilitare, no? Potrebbe essere, diciamo, una premessa importante per le elezioni regionali, da qui a qualche anno, in 5 Stelle, tu hai pensato a questa eventualità? Sì, sì, io ho pensato di formare un gruppo 5 Stelle, visto che ho la mia visibilità, è giusto, io voglio, perché l'unico partito, l'unico partito in Italia, che ha le mie idee, anzi, io ho preso le loro idee, perché la realtà, la vera realtà, non come dicono qua i poteri forti, come dicevano i Pitelli, nelle case nostre, e i suoi seguaci, dicevano che i 5 Stelle, toglievano le pensioni, nelle case, nelle campagne, e quindi i 5 Stelle, venivano viste, tuttora vengono viste, nelle campagne nostre, perciò vi dico io, chi non si documenta verso Internet, è troppo facile, passa il fesso di turno, che si crede più intelligente, comunque ha a che fare con un certo tipo di ignoranza, che non hai su Internet, e quindi è facile dire, eh ma, telegiornale dicono, dicono a favore di Renzi, e del PD, quindi fanno vedere solo quello, quello stage, che dice Grillo, che fa, grida, eh, la prendono che grida, perciò, nelle campagne, durante la campagna elettorale mia, hanno detto lo stesso, ma quel gemello grida, ecco, ma Grillo, ma poi, non ha fatto niente, però ma adesso che facciamo le cose, ma io, è possibile che in una cittadinanza come Lauria, non riusciamo a capire, qual è il male, qual è il bene, strade rotte, il male, arriviamo, arriviamo ai problemi poi pratici, ci arriviamo, no, quindi ci daresti questa notizia, che, certo, può cambiare tutto, insomma, però, al 70%, ti potresti candidare alle regionali, nella lista di Grillo? No, io no, io no, perché devo stare due anni, quindi non ce la farei, ma nemmeno perché non ho le qualità, almeno io mi sento ancora, di non avere le qualità per affrontare le regionali, io proprio come persona, io devo rimanere nel mio comune, nel mio comune io sarò portatore di voce, per qualcuno che ha le possibilità, e ci sono tanta gente che ha le possibilità, però che abbia le possibilità, secondo le mie idee, non solo tecnicamente computer, leggersi le carte, ma anche stare nel cuore per pensare ai cittadini, non è che mandiamo qualcuno che veda solo ai cavoli suoi, e poi si dimentica di noi, io questo sto valutando per bene, poi lo voteremo online, come si fa, e quindi io al 99% voglio formare questa cosa, perché è l'unico mezzo, perché se no altrimenti rimarremo, pure per avere un appoggio io, per cambiare qualcosa, visto che è cambiato Roma, sta cambiando, Pisticcia è cambiata la nostra Basilicata, come man mano sta cambiando, quindi mi sa che questi 5 Stelle, non è che smondano, come dicono, allora voi lo dovete vedere, lo dovete constatare a gente, quello lo dico io, dovete vederli, dovete vederli in una mano o in un'altra, chi ha dato, chi non ha dato, lo già sappiamo in questi 20 anni, quindi non possiamo credere più a loro, ci documenteremo, ci avviciniamo a delle persone che crediamo che si documentano per 5-6, ce lo facciamo spiegare. Raffaele, arriviamo alla campagna elettorale, perché poi io sono molto curioso che tu mi devi raccontare, il tuo primo giorno da consigliere comunale che entra nel municipio, non più da cittadino, certamente sempre da cittadino, ma da consigliere comunale, quindi con un ruolo riconosciuto, e che mi sono molto, 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 dieci volte molto curioso di sapere la tua prima giornata, come è stata, però ritorniamo alla campagna elettorale, quindi si presentano le liste, una domanda, secondo te pensavi che la battaglia era persa, nel senso che, o insomma, in alcuni momenti hai pensato che come lista potevate farcela, potevate fare il ribaltone? No, io pensavo che ce la potevamo fare, però con l'appoggio di Laurie, però dentro di me, io ho fatto tutti i campagni, i comizi, ho fatto 15 comizi, più ad lato, ho dato veramente l'animo, e adesso che dico che io pensavo che non potevo pensare di non varcela, perché ero convincente, ma io lo sapevo, però gli avevo detto al mio capolista, io avevo segnato a casa sua, l'ultima sera avevo segnato, io 700 voti, sono miei personali, perché sono andato nelle case, ho detto, non ho fatto il giro di tutte le case, sono andato alle persone che credevano in me che sapevano, e mi hanno detto loro, Raffaele, noi siamo quattro votanti, chi mi ha detto tre, gli diamo la casta e uno a te, segnavo, e chi mi ha detto quattro, due alla casta e due a te, ma così ti dicevano, due alla casta e una a te, è bella questa. Io sono, e so, ogni persona che me l'ha data, aveva in dubbio, vendi vota, laurea superiore, e un'altra diecina, laurea inferiore, perché poi così, e in una campagna come la, ma è l'Ara, perché io non conoscevo tanto, però, devo dire grazie alla mia candidata, Maria Cozzi, Velia Cozzi, che comunque, mi ha portato là, abbiamo girato insieme alcune case, poi sono andato a fare il comizio, e le persone hanno detto veramente, Maria Cozzi ci ha presentato questo ragazzo, veramente bravo, che mi conoscevano, e noi dicevano, perché, o sezione per sezione, io già sapevo, mi ha avvenuto meno la mia, la mia Iacoia, Mazzarella, Cogliandrino, la sezione di Cogliandrino, che sono 1200 votanti, devo dire la verità, 1200, che poi sono andate 1100 persone a votare, però, a me mi hanno dato 203 voti, il che dove sono nato, che mi hanno cresciuto ancora, io mi aspettavo 400 voti, però l'avevo messo in conteggio, 200 voti, perché conoscevo la gente, Riccate, e poi perché, aveva venuto a girare San Nicola, come ha detto nei comizi, Don Memì Pettella, con Bruno Cagliari, e quindi, come vedevano a lui, anche se erano intenzionati a darmela a me, però ha passato il senatore, Vecchio Stampe, e quindi ha dato, mi ha fregato i voti per dire, per il modo di dire, però io, le ho disse a Mariano, se il popolo di Lauria, vuol protestare, attraverso i miei comizi, perché io me li avevo registrati tutti quanti, e mi vedevo, mi vedevo ogni volta, e vedevo pure il pubblico, allora se la protesta, la vuol fare il pubblico, io devo prendere 2000 voti, allora Lauria, in quel caso là, non votevo sapere i voti, allora ero veramente, il consigliere del popolo di Lauria, perché veramente, Lauria aveva accettato la protesta, in questo caso, Mariano è rimasto stupito, ha detto, no, ma non è possibile, puoi prendere 700 voti, io, gli ho fatto il giro, l'ultima sera, glielo ho detto, come data a lui, anche perché tra il gruppo, si era creato un po' di, non accettavano il mio comizio, alcune, quattro persone, che poi, l'abbiamo, diciamo, stesso, si sono allontanate, loro stessi, perché hanno, perché dicevano che dovevo essere più diplomatico, più diplomatico, io sono la voce del popolo di Lauria, non posso, essere diplomatico, perché, essere diplomatico, significa, mettermi, insieme a quelle persone, che finora ci hanno governato Lauria, hanno governato, hanno medici, avvocato, ingegneri, di tutte le specie, pure tra i consiglieri, a me non mi va che tra la voglia dicevano, eh ma tu non sei un laureato, perché sono appena appena diplomate, perché cosa c'entra, cosa c'entra, questo non deve centrarsi, è l'alarma, che nelle vecchie generazioni, questa era l'alarma, perché il dottore era, invece io una cosa che andrei a cambiare, il dottore, non lo potrei far, la legge la metterò, il dottore non si dovrebbe candidare, cose che non ho detto in campagna elettorale, che mi sono scordato tra l'altro, il dottore io non lo metterei a candidarsi, anche da consiglieri, perché il dottore ti salva la vita, può salvare la vita di mia mamma, e quando viene nel giro dell'elezione, io glielo do il voto, al di là non penso se fa bene, la politica o fa male, perché mi ha salvato a me, ha salvato mia mamma, quindi non è come un mestiere, come il falegname, l'ingegnere, perché ce ne sono tanti, non devo avere obbligo, io lo pago, e non devo avere, invece nel dottore, tu ti senti in obbligo, oppure qualcuno che sta nell'ospedale, in un posto pubblico, che comunque ha modo di, questo si chiama clientelismo, e se noi arriveremo a questo punto, a far capire all'Italia, che queste persone che comandano, non hanno, è un'altra cosa che toglierei, vedere i voti nelle sezioni, nelle sezioni delle campagne, perché all'Oriere ci sono 15 sezioni, ci sono 15 sezioni, e io li toglierei, farei le sezioni, li metterei tutti in un gruppo, e non si dovrebbe sapere, perché solo a quel punto là, è libero il voto, se no c'è il controllo, se no c'è il controllo, altro con la doppia preferenza, credo che è peggiorato, no è peggio, perché tu fai le accoppiate, viene controllata ancora di più, perché io non l'ho fatto, nella campagna mia non l'ho fatto, perché l'hanno fatto, i democrazio l'ho notato, perché poi ho messo i rappresentanti, abbiamo messo l'edilizia, abbiamo visto come stavano accoppiati, in questo caso qua, il voto che è uscito, è uscito solo gemello, perché me l'hanno già detto a me, ho detto perdete il voto, datelo pure a una delle mie ragazze, quindi non fate il, e io non ho fatto preferenza, tra le mie ragazze non ho fatto distinzione, perché non dire tra le tue ragazze, se no si capisce male, eh sì sì si capisce male, tra le mie ragazze che erano candidate, perché se no non mi permetterebbe, il problema è che non ho preso nemmeno una ragazza, in questa campagna elettorale, poi parleremo di questa cosa, Raffaele benissimo questa cosa, ora arriviamo alla domanda che si aspettano tutti, che ti devo fare, come diavolo ti è venuta in mente, questa cosa della pietra, ne vogliamo parlare? Sì sì, no perché questa è una storia che è successa veramente, che è arrivata come l'ho detto nel video, come lo disse Gianni Pettella, allora io dall'epoca ci credevo, ci credevo in Gianni Pettella, la prima volta alle regionali, e poi all'europarlamentare, io l'ho votato, sì alle regionali l'ho potuto votare, perché non avevo 21 anni all'epoca, dovevo avere 21 anni, se non vado errato, per poterlo votare. Forse al Senato allora, al Senato? Al Senato pure, però non era al Senato, comunque diciamo, una volta non l'ho potuto votare, né una parte né l'altra, però l'ho votato la prima volta dall'europarlamentare, l'ho votato perché credevo in lui, perché veramente mi ispirava a dire che era come Don Mimì Pettella, ma aveva le idee chiare, forse questo porta le mie idee, poi quando mi sono accorto che né lui e né chi lo seguiva dopo, Marcello, Antonio Pisani, c'erano tutti, la buonanima di Gambatelegno, c'erano tutti, Vittorio Magliani che era stato sì, cioè a casa mia ci sono girati tutti, Giovanni Pandolf, venivano tutti a casa mia, Rodolfo Mignone, lo stesso Rodolfo Mignone che mi ricordo, mi sembra nell'84-85, era l'assessorale dei lavori pubblici, era Rodolfo Mignone, quindi è stata una persona bravissima perché comunque ha fatto fare il pezzo di strada tra noi, perché non solo avevamo fatto i socialisti, la strada c'era a mezzogiorno che si chiamava, ne mancò un pezzo, proprio sopra casa mia si fermò la strada, dato che mio padre era stato candidato, la gente iniziava a fare a dire che si era fatta solo per il candidato, poi di che fece brutto, mio padre giurava di strappare la testa, queste cose delle cazzate che si dicevano, però Rodolfo Mignone all'epoca, che era lavoro pubblico, fece finire quei soldi là e fece finire l'asfalto. Quindi allora, ritornando alla pietra, ricordiamolo brevemente, ma tu ci hai fatto le magliette, è famosissimo, e cioè ad un certo punto sembrava che l'ospedale unico si dovesse fare a San D'Alfonso a Lauria, e a casa tua l'onorevole insomma venne a dire insomma attenzione perché insomma ci verrà messa la prima pietra, e tu proprio partendo dalla prima pietra cosa hai detto in campagna elettorale? Eh, l'ospedale unico, sta cazzo di preta, cosa ha fottuto, cosa non si è mai fatta, è vero, è vero perché in effetti loro ci hanno preso in giro, ma ci hanno fatto un sacco di campagne elettorali, questo ospedale unico, che chi più dell'ospedale può servire una persona che sta male, chi magari in quel momento dell'elezione che sta male e risolve veramente le cose, che io mi ricordo l'altra volta quando si presentò Gianni Pittella di nuovo all'Europa, che all'epoca era al Barra Europa, era appena uscito dalla cosa proprio il senatore Pittella, che fu senato lontano, fu esprampiato, non so, ma per non farsi arrestare una cosa del genere. E allora venne in fine della campagna elettorale per fare la campagna elettorale al figlio, mi ricordo che lui dove disse che io ancora era più che voleva fare un ospedale qui sotto, Lauria, per i disabili, dove lui era stato in Francia a fare per stare vicino a questo tipo come padre Pio, insomma, è capito? Diciamo per i malati terminali. Per i malati terminali, che poi non si è fatto niente, ma dico io, caro senatore, come detto a Gianni, ma chi più di meglio l'ospedale di Lauria poteva essere salvato ora a fare una sala operatoria a tutti gli effetti come devono andare adesso tutte le persone che hanno questo problema per il diabete, perché se devono, io non entro nel tema perché non sono un esperto, non voglio, però lo sento, perché si deve curare gli occhi per il diabete, deve andare a fare potenza adesso, l'hanno tolta a chiaro mondo che non è più abile, ma tutte immagini persone anziane di 80 anni per non perdere l'occhio e viaggiare per potenza perché deve andare un giorno per il secondo giorno con il secondo, dove stare tre giorni e qua poi con questo caldo, ma scherziamo veramente? Ma qua abbiamo un parlamentare, abbiamo, un Presidente della Regione e non riusciamo a far funzionare l'ospedale come Lauria, me ne frego io, Lago Negro si deve ampliare come stanno dando dei soldi per la mia, ma Lauria, Lauria è più grande, ma allora veramente che, allora là mi fa rabbia e sto andando a fare tutte le carte perché guarda io giuro che sarà l'ultima cosa che farò che devo fare a Lauria e poi mi tolgo dalla politica ma voglio che l'ospedale di Lauria deve funzionare perché la devono finire di fare tutte queste cliniche private dove le persone che prendono 500-600 euro al mese non possono camparsi nemmeno loro con l'affitto e devono andare a pagare visite non solo nei loro studi che sappiamo benissimo dove vanno fuori a pagare le visite 350 euro perché la lista è attesa lunga ma allora ma ragazzi miei ma ci vogliamo ma questo dovrebbe dar conto il popolo di Lauria il popolo di Lauria perché lo vede con i suoi occhi lo vede e lo vive sulla sua pelle ma come ha fatto a non fare un minimo dico un minimo di protesta perché dico io si doveva fare la protesta il popolo Lauria ma non a me forse magari incidevo a dire che grida come grillo ma dare la lista mia o dare anche quella che sono nata arrivare con 700 voti di scarto allora io ci stavo là facevo pure una buona opposizione che faccio che faccio non abbiate paura perché comunque io la faccio fino in mondo ma Lauria non se lo meriterebbe uno come me e Mariano a fare opposizione perché andare là con 700 voti di scarto allora sì ma andare con 3.000 3.000 perché ci hanno triplicato loro 1.600 e 4.747 vuol dire che Lauria sta bene là che io mi incazzo vuol dire che cioè sono 3.500 pensionati Lauria che dicono e che ce ne fottano va a destra va a sinistra però io l'ho detto nel comizio superiore nella chiusura perché questa volta Lauria non reagisce non ci sarà più un'altra occasione perché la realtà perché io già sono convinto che fra 15 anni cambia Lauria perché finiscono la pensione a calcolo fatto e poi non seminando futuro queste persone troveremo guarda non voglio spaventarvi ma troveremo un grande disagio alcolizzato drogati ragazzi che giocano alla macchinetta ragazzi senza lavoro disperati chi avrà chi avrà il coraggio di togliersi la vita magari come c'è molto suicidi a Lauria che non ho detto ma Lauria girando per le campagne mi sono segnato ho fatto un altro dato Mario un dato di consumo psicofarmaco psicologico praticamente delle gocce per dormire la notte gli anziani perché vedendosi tornato i figli lontano loro pensano 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 anche gente di 60 anni pensano io ho lavorato una vita ho fatto una casa qua pensano 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 quindi non è che gli viene un po' perché mangiano male in queste campagne nostre pure Lauria perché mangiano roba fritta e tutte cose perché magari hai mente andare dal dottore e dire che deve mangiare due giorni a settimana fritta e cose però è il nervosismo è il nervosismo che si conclude nel cervello questo è il mio calcolo che si fa un morbo di Parkinson altre erosclerosi che non ce n'è molto perché la gente non dorme la notte perché pensi figlio lontano devo chiamare la badanta rumena polacca quelle che loro fanno non lo possono fare altre badanta a noi perché stanno bene nella famiglia quindi mia figlia perché deve andare a fare quindi sono andate mi sono segnato tutte le persone che fanno uso di stupefacenti stupefacenti di medicina Raffaele benissimo è anche molto interessante questa analisi che tu stai facendo sicuramente sarai e sei già un consigliere comunale che sta sul territorio questo è poco ma questa garanzia i cittadini certamente la possono avere però facciamo un ulteriore passo avanti lo dicevo prima io sono molto curioso di sapere il tuo primo giorno da consigliere comunale nella struttura comunale perché la struttura comunale è complicata e c'è sempre tanto da fare e vieni dopo e vieni domani e vieni fra tre giorni ecco come hai vissuto questa e come la stai vivendo adesso se magari adesso è cambiato pure magari qualcosa no no io devo dire la verità la prima volta che sono andato in consiglio non ho senza emozione senza emozione perché io come lo fossi già stato là dentro perché ho seguito sempre Mariano Labanco mi ho seguito tutto quindi sedermi là vi devo dire la verità non ho provato nessuna emozione ero me stesso anche perché sapevo che io ero la voce di quelle persone che mi hanno votato là e mi hanno dato coraggio alcune persone durante la campagna elettorale a dire di non arrendermi e alcune vicine ai democratici cercavano di influenzarmi ad avere paura però non conoscevano la mia persona che io non ho paura di nessuno di nessuno e come dicevo scherzavo a Mariano perché a volte gli facevano la testa così a Mariano tra di noi dicevano Mariano devi calmare Raffaele perché tu hai quel punto d'appoggio di frenare il gemello perché erano tutti guidati a un certo punto mi rilievo anche a Mariano dicevo senti Mariano io mi sono messo nella tua lista e faccio e dico mi prendo la responsabilità ogni volta che salgo sul palco io ogni volta che salgo sul palco i miei compagni di battaglia si domandavano come facessimo ma che devi dire che devi dire e ho detto io non lo so che devo dire io quando mi innalzavo su ogni palco mi venivano così senza aver scritto magli aver provato magli perché mi venivano come qualche amico mi diceva che tu quando vai sul palco cambi sei un'altra persona vai in trans vai che meno male che ti registriamo se no forse tu non forse sarai guidato dallo spirito ma non era così ma sono entrato nel comune io già ho visto tante cose insomma ho visto che dovevano accappiare già mi erano giunte voci mi erano preparato che dovevano fare un assessore esterno e da lì ho capito che c'era una talpa all'interno del mio gruppo che poi ho cacciato quattro persone perché già mi ero preparato delle carte perché già sapevo che doveva entrare un consigliere all'esterno che si è battuto per i poteri forti e adesso stanno facendo altre cose per poterlo rientrare perché come lui hanno fatto promesso altri assessori e poi ho notato il fatto che non c'era nessuna indicazione sulle porte la sala consigliare dove era cioè io quando entro in altre istituzioni io devo sapere quando all'inizio della porta devo sapere dirigente di che dirigente nome e cognome che sta muccia muccia come ho detto poi nelle riunioni che hanno fatto dopo perché adesso arrivano tutti i messaggi mi arrivano e devo dire altro che è cambiato perché abbiamo una Presidente del Consiglio Antonella Viceconte che è brava forse era un po' inesperta come lo ero pure io perché non è che ero andata a remenare come di qui tutte le carte ora posso andare a guardare tutte le carte ho scoperto un sacco di cose che ora man mano ve le farò vedere a tutti i cittadini perché devono sapere io devo informare la città Antonella è stata molto brava ha detto no no hai ragione ma mi informa ogni volta qualvolta devo dire la verità anche il Sindaco se stai a me lo vedo però una cosa mi ha deluso ma non il Sindaco la squadra che si è nominata intorno perché sono degli scansafatichi già l'ho notata un mese un mese poco ho notato sono degli scansafatichi perché non aiutano ma non solo coloro che sono usciti come consiglieri nella maggioranza ma chi era intorno pure da consiglieri che non è uscito si è allontanato e questo io è una cosa vergognosa perché la cittadinanza lo deve notare deve notare che se ho votato un consigliere che non è uscito e non ce l'ha fatto il mio voto non deve essere andato non deve essere buttato perché io ti ho votato a te Pingo Pallino e tu devi seguire almeno i consigli comunali e mi devi aggiornare tu non è che non sei uscito e ti devi allontanare di quella squadra perché allora ti sei messo perché magari hai prosperato che la gente votava prende un sacco di voti forse avevi qualche posticino nel comune o per che cosa se uno lo fa come spiro di animo come me perché io ho dato pure quei 12 euro e 50 centesimo quanto sono che tra l'altro non ho voluto nemmeno sapere per me potevano essere più 200-300 euro a seduta non lo sapevo prima e non lo volevo sapere nemmeno poi ha detto il sindaco che erano 12 euro e 50 centesimo cosa del genere e quindi abbiamo detto ma Mariano già su questa cosa l'aveva detto prima ha mantenuto fede se noi vincevamo era lo stesso solamente che c'era il sindaco se li teneva tutti perché doveva stare tutti i giorni e poi io disse anche il vice sindaco se doveva fare se era necessario se li doveva tenere se non era necessario come vedo gli altri componenti che sono stati nominati tra gli assessori ne vedo poco che lavorano programmi progettazioni io non ho visto cioè io ma questo devo vedere cioè voglio cioè perché l'assessore comunque viene pagato alla fine del mese o ne fa cose o ne fa perché questi ultimi cinque anni più non ne fanno cose meno rischiano perché fare l'assessore significa essere pure ammanettato perché hai delle responsabilità forse manco determinate da te perché comunque magari ti fidi di chi ti prepara le carte e magari vabbè solo a fermare poi lo scandalo che si avviene quindi noi dobbiamo fare le cose reali dobbiamo fare trasparenza io devo sapere ogni qualcosa che fa la delibera che la mette nel sito comunale ogni delibera ogni cosa ogni giorno ho visto che ci sono un sacco di libera che non sapevo pure io masticavo politica all'esterno ma non sapevo che si poteva andare a guardare stanno votando un sacco di soldi per carità forse forse giuste ma chi li controlla chi controlla è il controllore nessuno e allora questo noi dell'opposizione lo dobbiamo fare dobbiamo controllare e informare la gente e magari propongo al sindaco che siccome non se lo fanno a guardare nel computer la gente propongo ogni delibera ogni giorno facciamo quattro delibere non chieste dal consiglio le dobbiamo mettere scritte sui manifesti perché così la gente che non sa vedere il computer si dice ah oggi hanno fatto state libbre fammi andare a vedere ah hanno fatto una cosa per aggiustare la villa fammi vedere ah ieri hanno fatto una cosa per un campo sportivo superiore ah chi ha ditta perché magari quella ditta può dire pure che non c'è lavoro e pure il cittadino stesso può fare il caso e così non facciamo entrare nemmeno la mafia se ci fosse se fosse che magari ricatto il sindaco gli assessori perché alla luce secondo me facendo così il cittadino informato si ribella si ribella a ogni cosa non c'è infiltrazione mafiosa così perché noi informiamo la gente no guarda che non solo che mi possono ricattare a me che io civilizzo la gente agli atti pubblici noi abbiamo fatto questa cosa chiunque può fare brutto hai capito? Raffaele quindi diciamo nel comune tu stai chiedendo le carte hai trovato collaborazione da parte degli impiegati dei funzionari dei dirigenti sì 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 al protocollo sono molto brave su delle signore che saranno 63-64 anni hanno che grazie alla legge Fornero magari fanno un lavoraccio povere donne perché comunque esce qualcosa sui computer come sappiamo io questo ho detto a Angelo e lo metterò per scritto perché ho detto abbiamo tanti laureati di fare un qualcosa finanziato alla regione come c'è l'Apofil che cosa vanno a fare se io di affiancare queste signore perché veramente queste signore lavorano la mattina o la sera magari si portano il lavoro a casa per vedere quella legge uscita oggi perché domani serve per il lavoro loro e non è giusto perché sono tutte signore che arrivano a casa magari hanno qualche marito che non hanno fatto niente per il comune che lavorano per il comune niente ha dei figli a cui deve far da mangiare e quindi la poverina io metterei queste donne affiancate almeno due laureati nella materia a cui le cose diciamo antiche le farebbe la signora però si troverebbe anche il giovane a vedere quelle cose antiche perché gli potrebbero servire adesso che va in pensione la signora un affiancamento tu dici Raffaele ascolta andiamo siamo oltre l'ora di intervista però ancora qualche altra cosa riusciamo ad inserirla e cioè tu stavi parlando di problemi concreti io ti chiedo uno sforzo dimmi sei cose cinque sei cose che secondo te sono molto importanti e che vanno affrontate a laurea tu hai detto il tema di Acquedotto Lucano ad esempio temi come questi ma anche temi più spiccioli più concreti che ne sono i trasporti le scuole dici tu metti in fila cinque o sei cose e su ogni tema trenta secondi di spiegazione quindi un paio di minuti sulle prime cinque o sei emergenze che secondo te il nuovo governo cittadino dovrebbe affrontare allora come prima dovrebbe fare il serino come turismo quindi porterebbe più gente a noi qua e quindi dovrebbe mettere delle navette da lauree su serino e quindi ampliare i trasporti finanziati dalla regione che ci sono e magari tra le campagne nostre in modo che farebbe il giro dalle campagne e si risolverebbe e anche mettere qualche navetta andando al mare finanziata dal comune così farebbe mare e monti io farei una cosa il mattino mare e poi da mare si andrebbe al monte Sirino dalle due e mezza si andrebbe a cenare a Sirino perdona a pranzare a Sirino e poi dare una possibilità anche a chi sta a mare di fare un turno serale di andare a fare la cena sul monte Sirino visto che abbiamo la nostra montagna la valorizziamo così poi un'altra cosa farei dei corsi questo farei per stabilizzare di tutti i mestieri finanziati al comune e metterei gli artigiani ogni artigiano tutti tutti nell'edilizia da Fabbro gli farei dei fondi specializzati tu Fabbro vieni a fare tre ore al giorno farebbe sette ore a settimana di due ore come si fa per le scuole così noi possiamo sconvincere questi mestieri perché così una ditta se prendi un artigiano in tutti i campi nell'alberghiere nel falegnano elettricista tutti i campi non escluderemo nessuno tu ce l'hai già un esperto ha frequentato tre anni di corso due anni già gli fai il curriculum buono questo ha frequentato e anche l'artigiano ci fa bene perché so che io posso contare su Mario Lamboglia che ha fatto questo corso allora io non devo stare io imprenditore a insegnare faccio l'esempio della mattonella Mario devi mettere così la mattonella quindi io sono già tranquillo che vado col cliente mi vado solo faccio la fattura e mi pago e contento pure il cliente quindi una scuola di arte e mestieri però spinta sostenuta dal comune magari con la sponda regionale fondi da tutte le parti un progetto altro tema invitare tutti i geometri comunali e gli ingegneri di comune che dovrebbero mettere a fare i progetti perché io non penso o assumere altri ingegneri altri geometri a fare questi progetti siccome noi dobbiamo presentare un progetto pur se mi prendiamo la zappa mi prendiamo un progetto che ha Mario Lamboglia di prendere la zappa e di fare 10 pass e di prendere la cantina pur la cantina e di indalorto deve fare due ore dobbiamo perché questo progetto noi dobbiamo portare le cose semplici semplici perché noi dobbiamo incentivare i giovani a lavorare quindi dico a questi ingegneri a questi geometri di fare progetti ma poi farli presentare farli presentare perché nel comune so che ci danno dei fondi per per chi fa il doppio lavoro per che alla fine chi viene è un budget ma non so spiegare ho visto ho fatto un inverimento di tutte le cose che gli operai quando alla fine dell'anno se superano non superano straordinarie li facciamo fare straordinarie seguite perché non è che facciamo io devo controllare il genio civile chi è dovuto mi deve dire a me quando Mario Lamboglia ci mette a me che non so quando Mario Lamboglia mette per fare quel progetto me lo deve dire Mario Lamboglia per fare quella casa in quelle condizioni nominato un ingegnere al di là di tutto da Roma che non lo sappiamo perché è facile corrompere fare corruzione da Roma dammi là a venire a Lauria a dire Mario ha fatto questo progetto ci ha messo 20 giorni io che non ne capisco può dire no no dicano altri geni ci vuole invece noi dobbiamo far lavorare questa gente qua perché è stata morta così Lauria secondo me ma è così perché nel mio mestiere io posso controllare nel mio mestiere da permettere che io capisco tutto dalle delizie falegnamerie elettricizie io ho fatto un po' di tutto da 15 anni da cui mi sono appassionato tutti questi mesi quindi a me adesso non mi possono pigliare in giro tanto facilmente nemmeno sugli appalti pubblici sopra tutti gli appalti che mettono tubine cose perché ho fatto dico alcune cose ho fatto pure alcune che sto controllando sono andato a vedere i gabbioni quanto costano i gabbioni quanto costano i canaloni quanto costano ognuno li ho contati e non è difficile fare non è difficile fare un preventivo anche nell'edilizia non è difficile perché chiunque lo può fare andiamo avanti con qualche altra idea altra idea sarebbe avevo pensato agli anziani che magari agli anziani dare qualche spirito anche per che ne so magari a chi piace il ballo a chi magari dobbiamo dare un spiraglio organizzare pure d'inverno a fare una sala perché non abbiamo una sala almeno due o tre sale dove magari che ne so non si può fare da mangiare là però fare tipo app moment altre persone fare quel tipo di cena portare lì un catering come tutti gli effetti quella serata facciamo serata oltre over 60 anni fare più serate in modo che così lavoriamo tutti si sentono tutti quindi diciamo curare un po' la terza età diciamo la terza la quarta età perché insomma confonderli a non pensare che i figli sono andati fuori e quindi apparerete a dire che se no l'anziano si sta vicino alla televisione magari si va a dormire prima delle sette e mezza alle otto magari non si sente nemmeno il Tg3 Basilicata e poi quando va nel bar è mal informato perché questa è la cosa più brutta io quando mi dicevo il fatto dell'inguinamento sul petrolio che la Basilicata diceva sul Tg3 che era questa famosa alga particolare che inguinava le falde acquifere che si era formata che si era formata nel nel Pertusilla allora la gente non l'aveva sentito perché tu tra le campagne stanchi o disinvolte tu non lo seguiva e quindi non ti segui quindi chiunque nei barri dicevano che che erano quelle che come ho detto che erano le cacate di mucche che inguinavano la gente che ne sa perché le cacate di mucche ci sono tra le montagne ci sono sempre state perciò loro allontanano dai pascoli allontanano tutti i pastori perché non possono andare a pascolare tra le montagne perché vedono tutti i cacciatori i pescatori come ho visto nell'acqua che controllano questa è la cosa che metterei io io mettere una cosa mettere le licenze gratis alcuni controllori a turni a 3-4 mesi per controllare pure i cacciatori tutto durante gli anni li metterei a fare dei tesserini e a controllare pure la battuta di caccia per i cinghiali perché io mi metterei i cacciatori a turno non è che sono una squadra 3 di quella squadra 3 di quell'altra squadra di andare tra le montagne così quel cacciatore mi controlla se una mucche è morta là se stanno facendo qualcosa se c'è un cadavere tanto per dire che muore un anziano allora uno c'è il controllo dei territori stesso io comune darei dei tesserini e mettere il controllo pure queste guardie a caccia che diciamo una volta le guardie a forestale cioè non vedo tutto questo controllo io vedo solo che controllano quando io mi fanno la legna ma fanno la legna non ho fatto la domandina la domandina che questa ma pure pagare per fare la domandina io che sto vicino alla montagna devo fare 30 euro mi sembra che si paga per farmi due canne di legno non solo me la devo fare io oppure devo trovare qualcuno che me la deve fare un anziano ma ci vogliamo rendere conto che almeno per 4-5 canne di legno una vera vera come da montare ad una vita per legge obbligo tu te lo puoi fare perché tu c'hai il camino di legno e ti devi perché parecchia gente non tiene i soldi nemmeno per farsela fare la legna voi vai la persona un poveretto vai con un furgone con un trerote come dicevamo noi con un trerote con un motozap o piglia o guardia forestale in un bosco con un zapparito con un motozap con un altro gli fa una bella multa che magari se ne va a pigliare tre canne di legno cioè sai loro devono guardare queste cose le guardie forestali devono sì però devono presentare questo progetto che controllo questi non controllano niente proprio io vedo che controllano solo magari qualche parte non è che ce l'ho con le guardie forestali però non vedo un controllo perché se noi andiamo a vedere io ho fatto sempre questo caso il 15 agosto su tutte quante reperibili queste guardie forestali queste guardie cacciinavote guardie provinciali tutte reperibili però guardia casa io li trovavo sempre a mangiare tra i banchetti non controllavo sul serino io ho messo parecchie volte le foto quando la conserva di Lauria che buttavano la spazzatura allora loro perché quando gli dicevo io a guardia forestale di tutto a guardia palco poi portate fanno campeggio sul montesino mettete poi vedete la targa del cittadino che c'è la macchina e chi è responsabile di questo campeggio domani mattina 16 agosto io vengo a ricontrollare e se trovo delle bidonne di spazzatura dei sacchi perché non ve ne fotte di portarla dove è il bidonne della spazzatura non di lo sciallo là e poi avvengono i cani le volpi e distruggono tutte ci inquirino poi dobbiamo pagare noi dal comune a mandare degli operatori ecologici che ci costano questa è la civilizzazione ma se la guardia forestale guardia palco è che là arrivano quattro comuni sul montesilino io ho visto questo denunciarlo ogni volta e il 17 siccome c'è un viorino io pk io e pasqualino della conserva ci mettevamo a raccogliere tutte le schifezze di tutta quella gente scostumata e non è giusto perché noi dobbiamo civilizzare la gente se questo c'è nel controllo vedi se se la gente se io mi prendo i denominativi se la gente va a sporcare più o se gli viene la felicità di Dio quindi Raffaele insomma possiamo capire davvero un fare politica sul campo diciamo sporcandosi anche un po' le mani quindi assolutamente per i cittadini ovviamente Raffaele allora siamo in conclusione ma credo che molto spesso ci sentiremo e ci a parte ti ascolteremo pure nel consiglio comunale e sicuramente seguiremo le tue iniziative pubbliche però diciamo ultime due domande l'ultima più privata più personale perché molti anche fuori di laurea si sono incuriositi di questa persona quindi insomma gli dobbiamo dare qualche notizia in più però prima di questo ritorniamo sull'amministrazione comunale mi è parso di capire come minoranza vi state già muovendo ci saranno prossimi consigli comunali e quant'altro come vedi il governo cittadino hai già espresso un giudizio negativo però ecco tu pensi che passata una prima fase potranno rendere di più o vedi questa sommatoria di partiti il fatto che ci sono tante persone anche un po' dietro insomma si possono creare dei problemi no io la competenza di Angelo non ho mai avuto dubbi che è una persona competente e io penso che lui voglia fare il bene per l'auria questo l'ho capito perché se no non facevo cinque anni fa battaglia per lui perché è un battagliere una brava persona e è competente però il problema è che viene secondo me viene guidato da dietro perché sempre per il fatto che non è farina del suo sacco quel successo quindi lui ha dei comandanti dietro che lui anche se si vuole opporre non si può perché comunque lo fanno cadere il giorno dopo lo minacciano essendo cinque partiti perché ci sono i pisaniani e comunque hanno la maggioranza quasi duemila voti ci sono i popolari uniti per mangiare perché devono mangiare pure loro con gli amici poi devono mangiare tutta questa associazione che hanno battuto hanno battuto per loro per i poteri forti che adesso andremo e io andrò a verificare e non me ne fotte niente perché anche se ci fosse mio padre in quell'associazione anzi a maggior ragione piscano mi ha votato ma anche se ci fosse mio fratello io andrei a conto perché mi fa rabbia perché è così non si può fare unire le forze di clientelismo allora unendo le forze di clientelismo tu si fa formare che non ti fanno fare il lavoro però Angelo si sta muovendo molto bene sicuramente se gli sto io dietro Mariano Labanga e vedo che anche c'è Osnato e anche Schettini e anche la Cresci ma Cresci ci siamo già uniti e anche loro sono dei combattenti perché alla fine io devo dire che Osnato e Schettini e Nicola sono bravi e vogliono quello che voglio io insomma quello che vogliamo un po' quello scondendo di Lauria ma è troppo poco però perché io certe volte cito perché ha senza dignità Lauria l'ho detto non è che mi attaccano sui social qualche qualche tuo collega giornalista o finta che fa con lei mi attacca su Facebook che io devo dire le cose ma io nei comizi se lui si è assentito io ci credevo nella dignità lauriota e quindi io credevo che Lauria avesse avuto quella dignità lauriota perciò mi permetto di dire che quei 659 voti sono stati dignitosi perché non sono stati di clientelismo ma quei 3.000 voti che sono andati al di più e come li dobbiamo definire perché nella cabina elettorale non è che ti hanno venuto a prendere quel mitra quel mitra e ti hanno costretto tu mi devi votare perché alcune persone ti diranno io non ti ho potuto votare perché sai io sono stato costretto ho portato il curriculum e allora queste persone non guardano al futuro della politica perché fare politica significa fare il futuro non è che fare politica fare il clientelismo o fare i cazzi suoi i problemi suoi perché non va così non si fa politica dobbiamo fare politica per il popolo di Lauria per tutti non per sonare come è stata fatta finora e lo si continua a fare perché Angelo otterranno di capistro come ho detto che Gaetano mi ti tira hanno ottenuto di capistro hanno ottenuto è stato guidato sempre come uccioccio attaccato uccioccio hanno detto loro perché lo sappiamo e noi io questo lo intendo voglio sfondare questi poteri questi poteri che ci hanno soppresso troppi anni e li sfonderò ve lo giuro Raffaele allora è una sudata st'intervista perché davvero insomma piena veramente di tanti spunti allora gli ultimi tre minuti però li dobbiamo dedicare a Raffaele ielpo nel senso che chi ti conosce poco adesso insomma gli dobbiamo dare qualche notizia in più nel senso che abbiamo detto tu sei un artigiano sei un una persona poliedrica no si dì ecco tutto fare è una persona con più competenze quindi è un fatto assolutamente positivo abbiamo anche spiegato come si è avvicinata alla politica o come la politica si è avvicinata a te visto che a casa tua era un po' abbiamo capito una sorta di il covo dei socialisti e del grande garofalo che poi il risultato che doveva essere il bene per il popolo di Laurì e che poi il risultato come avete visto capito io l'ho vissuto in prima persona da giovane quando un giovane crede in certi miti e viene deluso non è altro alcuni mi hanno attaccato a dire che nei comizi facevo con rabbia con rabbia i comizi ma quella è rabbia che è maturata da 20 anni maturata da 20 anni vedersi allontanati gli amici di invanzia e i fratelli ve lo garantisco che la rabbia ti viene dal profondo del cuore e perché solo chi ha veramente voglia di lottare ha questo stimolo se no tutti quanti si accodono come dicono l'avrì ho pisciato un gioccio perfetto Raffaele ma volevo dire una cosa tu mi sbandi in continuazione volevo fare una battuta sul fatto che la tua casa è un po' il crocevia un po' il punto di riferimento dei socialisti comunque della politica insomma visto che al Fortino c'è una casa dove c'è una lapide qui Garibaldi così dobbiamo fare a casa tua dobbiamo mettere una lapide qui Antonio Pisani Domenico Pitella Pisani tutti quanti più ne metta capito va bene va bene a parte la battuta Raffaele torniamo a te che giovane sei perché ancora sei molto giovane quanti anni hai proprio di preciso io ho 40 anni 40 anni compiuti a marzo quindi il 23 marzo ne dimostri almeno 5-6 anni di meno io non ho festeggiato i 40 anni perché intendevo festeggiarli nella campagna mia elettorale veramente ero convinto che vincevamo quindi festeggiare i miei 40 anni però l'ho festeggiato uguale voti puliti e l'ho festeggiato con i cittadini miei perfetto Raffaele quindi allora un giovane di 40 anni insomma una persona che ancora può dare tanto abbiamo detto sei un artigiano il riferimento alle ragazze di prima è anche per dire che non sei sposato frequenti qualche persona non ci non non ti vogliamo mettere 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 lanciamo un appello da queste telegramme ragazze fatemi avanti perché c'è il consigliere gli è il po' che scapolo è un buon partito lo possiamo dire sì forse sì forse sì è un po' triste diciamo no va per la lealtà non è come i comizi perché poi in realtà chi mi conosce bene sono di animo buono nel senso così però uno quello che dico io deve il matrimonio lo deve sempre vedere prima non si può innamorare una persona perché ha dei fans o perché per quello che è famoso forse per questo io non ho mai ascolto allora abbiamo capito che ti sono arrivati di sms terribili diciamo un po' di critica però nemmeno un sms di una ragazza Raffae complimenti sì no 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 molte molte ragazze mi hanno fatti complimenti mi hanno aggiunto su facebook mi messaggio ma dobbiamo stringere no ma sai perché non voglio stringere perché non adesso devo pensare un po' al mio paese prima perché poi invatuarsi di qualche ragazza e innamorarsi magari perché come succede significa abbandonare la politica abbandonare chi mi ha votato e non lo e forse non so se potrebbe capire di questa ragazza che magari mi chiamano in continuazione quindi magari forse potrebbe sorgere qualche soggetto di gelosia perché comunque sarà così e quindi armerete le zille che è meglio non armerete va bene Raffaele molto simpatica questa parte un po' diciamo pure per un po' diciamo ecco sdrammatizzare un po' anche se abbiamo detto cose assolutamente precise e determinate no tu mi hai sbandato nel primo consiglio quando ci siamo salutati io ero venuto a chiederti scusa per l'errore del cognome io ti ho detto Raffaele tu adesso insomma farai attività politica quindi andrai avanti tu mi hai detto però forse ho capito male ma credo di aver capito bene no ma io farò solo una legislatura ho capito male sì 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 io farò solo una legislatura perché secondo me non cambia meno di 15 anni laurea deve cambiare tra 15 anni perché abbiamo 3500 pensionati quindi se ne fottono che io vado a gridare faccio bene perché come non hanno seguito l'ultimo consigliere d'opposizione da solo 5 anni posso seguire me Mariano gli ultimi 5 anni posso aumentare altre 200-300 voti ma secondo me perché sono legati e quindi io spero però nel corso degli anni si può cambiare idea sicuramente o meno che non è vedo molta gente avvicinarsi a dire Raffaele che mi segua che vedo che mi segua perché quando vedrò vedere che magari nel consiglio comunale saremo solo io e Mariano e tutta la giunta allora che penserò dico che non mi ero sbagliato hai capito quindi non vorrei perdere tempo a quel punto qualche sms particolare sarà ben gradito sì 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 a quel punto anche se pure meno secondo me 5 anni non duriamo questo secondo me ah tu hai quest'idea che la legislatura non regge no 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 non regge non regge perché non gli staremo addosso magari loro dovranno Angelo deve fare coloro che lo comandano dietro e quindi a un certo punto esplode tutto magari quindi qualcuno non entra tra la maggioranza a fare gli assessori esterni e quindi un po' di mal di pancia un po' di mal di pancia perché ho visto già difficoltà da amministrare pure le ultime due ore hanno cambiato le carte in tavola anche perché gli era andato quel virus pitteliano dico io gli avevo andato a dire la notizia a cui io mi ero preparato perché le carte non le leggi pure io perché dietro di me c'è uno squadrone bravissimo devo dire tranne qualcuno che poi si è andato perdendo via via ma una curiosità veramente una battuta anche banale e tu hai un altro fratello tu ti chiedi diciamo vieni definito il gemello perché c'è un altro c'è un altro fratello ricordami il suo nome Nicola Nicola sì ma in questa campagna elettorale insomma sei diventato un po' il personaggio perché migliaia e migliaia di contatti a quel famoso video che è sulla pietra quindi davvero sei insomma hai attirato molta attenzione è capitato che all'altro al fratello tuo gemello qualcuno pensando che era Raffaele andato magari che ne so a gridare a dire qualcosa è capitato qualche equivoco di questo tipo no non è capitato perché lui essendo a Milano non è uscito io gli disse scendi qua perché così in due faremo due comizi perché lui ha quasi la stessa mia grinta la mia italiettica soltanto che non mi ha potuto votare perché ha la residenza a Seregna a Milano e quindi io gli dissi scendi gli ultimi 15 giorni perché così vedono il gemello veramente dappertutto come capitava nella scuola come capitava quando eravamo qui quindi cioè a me non è parso bello a lontanare perché mio fratello è là da 20 anni quindi sentire diciamo una parte di me stare a lontano quindi penso che ho descritto tutto quello che vorrebbe tutta la cittadinanza di Lauria eppure ho altri fratelli io ho altri due fratelli uno addirittura dalla Columbia in questo momento si è pure sposato con una colombiana e poi ho un altro fratello che è a Idolo vicino al Ponte di Legno dove vado io a farmi le vacanze invernale a sciare perché a me piace molto lo sci quindi perciò ci tenga la mia montagna nel Seregna e mi fa rabbia quando sono stati investiti parecchi soldi e non li fanno funzionare adeguate poi mettono fanno che ci sono dei maestri perché fanno parte sempre della complica quando noi non abbiamo delle strutture adeguate io penso che si dovrebbe fare prima un progetto di base è inutile che io faccio il maestro da sci o faccio cose quando non presento io che sono nella competenza presenta al al presidente della regione al comune stesso sia Lauria Lago Negro che Nemolo e Moloterno che arrivano là ma dobbiamo finire con questi quattro volumi la presenza un progetto buono fatto negli anni negli anni due o tre come dico io perché là dobbiamo battere anche i verdi che non ci fanno tagliare ma se noi non presentiamo un progetto che abbia il turismo ma come possiamo dire che i verdi ci dicono di no noi possiamo fare delle piste a nord perché la montagna è così bella e poi la montagna che cade la neve e una dal sud che cade la neve prima di Roccaraso e chi meglio di noi possiamo sfruttarla ma veramente è una cosa stupida perché dice ma quella poi alle tre e quella pista là ci va il sole non è più un praticato noi la dobbiamo fare dobbiamo calcolare il sole come fanno gli altri e io da me che mi piace da sci lo sci come vedo in altri posti parlo con altri maestri sono i maestri da sci sono colori che vivono la montagna che indicano anche i pastori gli diciamo dove sorge dove in quel punto del sole arriva a mezzogiorno luna dove noi possiamo creare delle piste sempre a nord che così possiamo e il ritorno fare un pianto così bello ma noi altro che Roccaraso noi potremmo fare un sacco di cose Raffaele allora insomma domande ancora ce ne sarebbero tantissime però credo che in questa ora è più di domande e di risposte insomma abbiamo dato il quadro del tuo impegno e che forse non basteranno quattro anni come abbiamo avuto modo di dire però certamente possiamo dire che la cittadinanza avrà proprio nel ruolo di controllore perché tu hai questo ruolo che ti è stato affidato dalla diciamo dall'elezione comunale per com'è andata e quindi sicuramente lo svolgerai al meglio certamente insomma tutti gli atti avranno una verifica politica pubblica e sicuramente questo ci sarà e sarà utile per giustamente tu hai fatto un passaggio importantissimo anche per la stessa maggioranza perché si rafforza in questo modo nel momento in cui c'è il fiato della minoranza che che gli sta addosso come gli ho detto a Angio che gli sto io gli sto col fiato addosso ma non per cadere perché cadere è un sindaco che comunque è di competenza perché secondo me è uno dei sindaci ma non è che lo voglio vandare come diciamo noi perché lo voglio avvicinare a me non mi interessa perché se un viaggio da solo me ne fotte però quando io devo dire la verità di una persona la devo dire lui è competente e quindi secondo me sarà il sindaco che quello che ci legge nelle carte più di tutto finora perché magari gli altri sono stati che non ci legge però anche gli altri intorno non ci leggevano intorno e quindi formare questa squadra che secondo me è già 5-6 persone su già della vecchia pasta cioè non lo faranno emergere quindi questo gli do il consiglio che ho avuto Moro in questi giorni non ha fatto fumare nelle sale che potevano fare dove gli do alcuni indizi lui li accoglie nonostante che io lo gridi ma io lo grido soltanto quando non non si accorge forse non lo fa nemmeno di quelle mancanze che può capitare pure a me per carità ma non è che uno una cosa c'è che non porta rancore né io né lui verso di me perché uno se le dice là ma così è da persone civili è giusto il rapporto giù non è che uno ha un diverbio e poi non ti parli il giorno dopo così no come non Raffaele ti chiedevo gli aspetti personali ma proprio velocemente se no siamo troppo lunghi d'altro tu dicevi internet il computer noi se dovessimo seguire un po' le regole questa intervista è super lui perché l'intervista massimo tre minuti noi abbiamo fatto altro che tre minuti però velocemente i tuoi gusti ecco per chi vuole insomma conoscerti un po' per chi vuole conoscerti un po' di più i tuoi hobby abbiamo detto l'obby mi pare lo sci la natura mi pare di capire ecco i tuoi gusti lo sport ecco qualche altra la buona cucina ecco dici qualche altra cosa e poi chiudiamo con un ultimo a me piace fare tutto mi piace fare campeggio sul Monteserino ovunque spiaggia fare in bicicletta mi piace guardi gli sport li faccio a tutti a tavola a tavola a tavola pure mi piace fare questo sport eh fare questo sport mi piace stare con gli amici quando è un bel gruppo divertirmi e quando sto con gli amici amo molto scherzare e forse anzi parecchio scherzare e allora alcune volte questa mi penalizza questa cosa perché siccome io mi piace quando sto con le persone passare quei momenti belli insieme mi piace molto scherzare allora quando mi vedono in un ruolo più serio parlare delle cose più seri si pensano sempre che è gemello scherzoso è modificata giudia ma non è così perché io grido ai miei amici certe volte che mi ingazzo e mi ingazzo veramente perché uno deve deve dire quando sta scherzando e quando sta parlando di cose serie convondono sempre forse per questo sono stato aggressivo in queste campagne perché se io ero un po' troppo che dicevo un po' facendo troppo battutina nel senso non avevo quella grinda giusta la prendevano per già come hanno detto che facevo un gabarettista vede un po' facevo un gabarettista dicendo le cose di Laurì la vera verità e allora quando uno dice dice le pagliacciate le buttanate allora quelle sono verità ma perciò io ero un attacco ma però conoscendo ma la gente perché Laurìa in 40 anni mi conoscevano tutti quanti lo sai la parte che mi ha deluso quando una persona diceva ma quello fa chiacchere e le persone che mi conoscevo che gli ho fatto lavoro ho fatto lavoro e tacevano tacevano quelle persone che me le ho segnate tutte quante qua me le ho segnate al mio dito perché non sono vendicativo però perché io l'ho vista e me lo sono venuta a dire le persone persone anziane giovani come me perché erano invidiosi di me non si fa così quelle persone che hanno detto che mi avevano arrestato e non hanno battuto ciglio e hanno detto che non ero un bravo ragazzo che è così che poi gli dicevano pure alla presidente non alla viceconte ma quella aggressiva ma la Antonella viceconte che mi conosceva ma guardate ma io lo conosco da tanti anni perché dovete dire così vedi ma è stata l'unica tra quella maggioranza però in quell'altra maggioranza che durante la campagna e non si fa perché questa è campagna elettorale sleale e colpisce le persone perché io non ho mai ferito le persone non ho mai detto le persone lo attacca sempre sulla politica loro hanno cercato di attaccarmi sul personale e quelle persone che dove io gli ho fatto opere buone gli ho trovato anche l'acqua gli ho trovato anche l'acqua che gli ho trovata e dopo non si sono manco ricordate ma non volevo voglio perché questo è clientelismo ma dire che il gemello è una brava persona perché non è quella persona che è maligno vendicativo io non sono vendicativo con nessuno e non lo voglio fare perché a me non mi piace io voglio trasparenza voglio capire capire Raffaele davvero chiudiamo un'ultima curiosità a livello nazionale qual è il politico che ti piace più ascoltare la sera in televisione o su internet il mio politico è Di Maio Luigi Di Maio che mi piace molto è Di Battista Di Battista sono i miei miti insomma quindi infatti io me li seguo sempre 5 Stelle come c'è Di Maio che sto mangiando o parlo magari anche con qualche ragazza smetto perché mi piace quel suo carisma che ha quindi lui perché incita la gente a farti ascoltare perché mi dà quel senso di trasparenza perfetto allora noi ringraziamo il consigliere comunale Raffaele Jelpo e a presto e buon lavoro per 5 anni diciamo almeno dovrebbero essere 5 anni 5 anni di intensa attività amministrativa io penso per me andrebbe bene 5 anni perché così avremmo modo di vedere questa cosa se non lo fanno cadere prima ma è in quella sua maggioranza che lo fanno cadere perché poi non arriveranno i contendini agli amici dagli amici perché ci sarà il gemello Mariano la banca che controlla e scrive 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 fino a tale che si scocceranno che non arriverà grazie Raffaele grazie per la disponibilità grazie